La Regione Basilicata sosterrà con un contributo mensile di 500 euro le famiglie che assistono persone in stato vegetativo o di minima coscienza. La Giunta regionale nel dare corso ad un'apposita legge votata dal Consiglio regionale ha definito le modalità con cui i cittadini lucani potranno beneficiare del contributo. Le famiglie che assistono persone affette da gravi patologie invalidanti a domicilio, ha sottolineato l'assessore regionale alla salute Attilio Martorano, restano comunque centrali in questo modello assistenziale. Per questa ragione il Governo regionale mette loro a disposizione un sostegno economico che consentirà di affrontare con qualche difficoltà in meno l'impegno dovuto alla cura e all'assistenza del proprio caro. I cittadini aventi diritto potranno accedere ai contributi regionali attraverso una specifica richiesta e comuni capofila degli ambiti sociali di zona, che avvalendosi dell'apposito fondo pari a 90.000 euro istituito dal Governo regionale provvederanno a emanare gli avvisi pubblici. Per accedere ai contributi occorre la residenza in Basilicata sia del paziente che del familiare, oltre alla certificazione medica comprovante la diagnosi di stato vegetativo o di stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico.